Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Oggi siamo qua perché voglio farvi vedere i miei autoregali di compleanno. Ebbene sì, il 2 gennaio ho compiuto 27 anni e come ogni anno mi regalo sempre qualcosa. A guardare ben più di qualcosa. Quest'anno veramente esagerato però il compleanno è una volta l'anno, non mi interessa. Ho dovuto fare due video separati, ovvero uno sugli autoregali e uno sui regali perché io non credevo ma veramente quest'anno i miei amici mi hanno inondata di regali. E tra l'altro me ne mancano ancora due, quindi veramente quest'anno io non ho parole. Prima di iniziare però come sempre vi ricordo di lasciarmi un like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Tanto come vi ricordo sempre per voi è tutto gratuito ma a me serve per tenere vivo il canale. Iniziamo subito perché sono veramente tante tante cose. Sono entrata in un negozio per comprare qualcosina per la Befana ad Antonio e i miei genitori. Ho visto due cosine e me le sono volute prendere. Sono due paia di calzini perché ho dovuto buttare via un po' di calzini perché erano bucati e quindi ho deciso di fare rifornimento. Allora il primo paio di calzini sono questi. Sono diciamo medi, né troppo alti né troppo bassi. Sono neri e la particolarità che mi è piaciuta è questa banda rossa con scritto I like this. Molto, molto, molto carini. Visto che sono autoregali riesco anche a dirvi i prezzi. Sì, forse di tutto. Se vi può interessare la marca è Sogni d'Oro e questi li ho pagati 2,99 euro. Sono in cotone, quindi top. Ecco qua. E poi un altro paio di calzini. Questi non potevo lasciarli lì perché sono neri e hanno la M. Io mi chiamo Martina, quindi fate voi. La M è oro e poi ha queste bande, queste striscette bianche. Anche questa, Sogni d'Oro, sempre 2,99 euro. Anche questi sono in cotone. Fantastici. Poi, poi, poi proseguirei con un cappotto. Quest'anno, quest'autunno, inverno, mi sono letteralmente fissata con i cappotti. Infatti poi vedrete anche nel video dei regali di compleanno, veramente. Quest'anno ne ho preso, guardo là perché ce l'ho preso azzurro, l'ho preso cappuccino, ho preso il teddy bear, l'ho preso color ciclamino. Ora vi faccio vedere un altro colore e poi appunto nei regali di compleanno. li vedrete, poi ovviamente io ne ho tre neri, vabbè, fuori di testa, fuori di testa. Mi mancava il verde e quindi l'ho preso, l'ho preso su Shein, perché io e Antonio abbiamo dovuto fare un regalo di compleanno e Antonio mi ha detto che questa persona gradisce molto i miei outfit firmati Shein, quindi abbiamo deciso di comprarle due cose da Shein e quindi per, diciamo, arrivare alla spedizione gratuita e utilizzare coupon, appunto, e così ho deciso di prendermi questo. Ho preso una L perché sto iniziando a vedere che l'XL mi inizia a stare grande e quindi poi se continuo a dimagrire l'XL, è vero che era ball over, però insomma i capotti a me piacciono belli dritti che segnano la figura e quindi ho voluto prendere una L di questo bel verde. Ora voi lo vedete un pochino più acceso, però è proprio verde, verde bosco. Ovviamente è poliestere, però fa la sua figura, mi hanno fatto tutti i complimenti. Veramente, veramente bello. Di quello che riesco metto il link, perché appunto parliamo di Shein, poi la maggior parte delle cose le ho prese su Amazon, quindi di quello che riesco metto il link. È fantastico, veramente, è lungo, 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 lungo. Veramente, veramente bello. Poi, ora l'appoggio un attimo a terra perché le grucce sul letto non si mettono. Poi mi sono presa da Vinted, quindi qua non riesco a mettervi il link, un bel po' di ciondoli Pandora, perché ormai, anche per alcuni regali di Natale, mi sono affidata a Vinted cercando prodotti nuovi con cartellino, quindi che non fossero stati mai utilizzati, magari perché la persona che li ha messi in vendita erano dei regali indesiderati, insomma, che avessero appunto scatolina, cartellino, garanzia. Mi sono trovata strabene, quindi ho deciso di prenderli anche per me. Allora, iniziamo con questi. Allora, mi sono presa questo cuoricino di Minnie e Topolino, quindi vedete Topolino e Topolina con il cuoricino che si danno un bacino e dietro c'è scritto Believe in Magic. Io non sono una gran fan appassionata Disney, nel senso che quando ero piccolo ho visto i film Disney, però se adesso qualcuno mi dovesse vedere, ah ma questo pomeriggio ci vediamo, ci guardiamo, ci vediamo un film Disney? No, grazie. Anche perché chi mi segue lo sa, io sono molto molto appassionata di lettura, quindi appena un momento libero preferisco sempre leggere che mettermi davanti alla televisione. Ovviamente ogni tanto mi guardo i miei film, tipo in 27 anni l'altra sera Antonio mi ha fatto vedere il primo film di Harry Potter, non mi è dispiaciuto, però insomma, mentre lo guardavo io stavo al computer, quindi potete immaginare, però devo dire che da sempre il proprio esteticamente Mini e Topolino mi sono sempre piaciuti e poi mi piace questo loro amore bellissimo e quindi l'ho voluto prendere. E poi ho voluto prendere Chip e Chop. Questa qui penso sia un'edizione limitata perché oltre al marchio, alla timbratura e quant'altro c'è scritto Disney Pandora, quindi sì, con la elaborazione con Disney, però forse qualcosa legato a Disneyland Paris, perché dietro appunto c'è il marchio Disneyland Paris, però sicuramente ve lo sapete meglio di me. Allora, qui incassonato c'è il brillantino e poi abbiamo il cappuccio, il cappello di Topolino e sotto abbiamo Chip e Chop. Non guardate l'unghia che mi si è rotta, però vabbè. Mi è piaciuto come l'ho visto tantissimo. Allora, questo qui l'ho pagato 8 euro, questo qui costa tipo 59, l'ho pagato 7,50 euro regalato, regalato. E bellissimo, mi è piaciuto veramente, veramente tanto perché io ho tantissimi bracciali Pandora. Ho questi e ne ho altri, ne ho al polso, ho questo, ho il Reflex e poi ne ho altri là. Io, Pandora e Raspini sono veramente i miei due brand di gioielleria preferiti in assoluto. Non mi piacciono ovviamente tutte le cose, però quelle che mi piacciono man mano nel tempo cerco di prenderle e di farmi dei regalini. Poi appunto Vinted si trovano queste offerte pazzesche e ne approfitto. E appunto dicevo che anche Chip e Chop, quando ero piccola lo vedevo molto spesso, non mi dispiacevano affatto e quindi ho deciso di prendere il ciondolino. Poi per il bracciale legato ai viaggi ho preso la nave e poi ho preso, diciamo non si chiama clip, però insomma questa qui tutta tonda, con scritto Around the World e poi appunto i brillantini e tutto il mondo stilizzato. E poi mi sono presa, ovviamente da amante del Natale, mi sono presa il Candy Cane, troppo bellino, e poi a 3 euro, cioè 3 euro originale in condizioni perfette, la tazzina del caffè. Io sono una grande amante del caffè e del tè e quindi tazzina. Bellissime, bellissime veramente. Poi, 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 non può ovviamente mancare del make-up e quindi dopo tantissimi anni che facevo la corta a questa palette, invece che 39,90, 39,99 su Pink Panda, al Black Friday l'ho trovata a 19,99, quindi messa nel carrello e presa, e sto parlando della Nabla Dreamy 2 The Mystic Palette. Tutti la conoscete, sicuramente 8 persone su 10 che guardano i miei video l'hanno, famosissima. Io non ce l'avevo perché io i soldi preferisco spenderli in altri modi, nel senso che per me, cioè io spendo tanto, però, ovviamente, cioè se mi seguite sapete che io spendo ma tutto in modo lo costa, perché a me piace avere tante cose. Io non sono molto fan del poco ma buono, ma sono proprio fan del tanto, perché mi piace cambiare, insomma. E quindi per me 40 euro per una palette anche no, però l'ho trovata scontata a 20 euro, tutti ne parlano strabene e ho deciso di prenderla, anche perché tutti i colori in questa palette sono colori che io utilizzo quotidianamente, quindi ho detto vabbè, la prendo. È in cartone, quindi io preferisco quelle in cartone perché anche se le mettete in valigia non si rompono. Poi, ovviamente, ora non vi voglio accecare, però c'ha il suo specchio e poi ha le sue 2, 4, 6, 8, 10, 12 cialde. Guardate la meraviglia. Abbiamo 1, 2, 3 matte e tutti gli altri glitterini, shimmer, è meravigliosa. E questi sono tutti, tutti i colori che io utilizzo quotidianamente. Ora mi vedete struccata, però io mi trucco sempre. E nulla, fantastico. Molto in mente non utilizzerò tantissimo il lilla e il viola, magari posso provare un make-up per vedere come mi sta, ma gli altri colori sono appunto colori che io mangio. E nulla, è qualcosa di magnifico. Ora non vi faccio lo swatch perché non la voglio rovinare. Perdonate. E poi, e poi, mi sono auto regalata ben 1, 2, 3, 4, 5 libri. Lo sapete, io amo leggere. Ho passato diversi, come chi ama leggere mi capirà perfettamente, diversi periodi in cui ho avuto il blocco del lettore e mi sono resa conto che erano i periodi in cui facevo l'università e quindi avevo la testa full di informazioni e proprio non riuscivo ad immagazzinare altre informazioni. Anche se appunto la lettura è un hobby, è un qualcosa che dà piacere, io non ce la facevo. E un altro momento in cui mi sono resa conto di avere il blocco del lettore è quando al lavoro, ora non in burnout, però ero molto molto stressata e molto molto presa dal lavoro. Però io normalmente leggo veramente, veramente tanto. Non mi spaventano nemmeno i libroni grandi. Ovviamente non leggo tutto. Io leggo principalmente thriller, racconti con uno sfondo psicologico. raramente leggo qualcosa che ha una trama romantica. Non leggo fantascienza, quindi diciamo io leggo principalmente un genere, però mi piace ogni tanto variare. Motivo per il quale ho deciso di prendere un libro di Zero Calcare. A dire la verità è il secondo, perché per Natale, per entrare nello spirito, sempre di Zero Calcare, ho letto Ababbo Morto. Carino, però non mi è piaciuto tantissimo. Infatti l'ho venduto su Vinted, messo dopo due minuti venduto. Però ho deciso di prendere anche Niente di Nuovo sul fronte di Re Bibbia, edito per la Bao, al prezzo di 18 euro. Io volevo leggere La profezia dell'armadillo, perché appunto è stato il primo libro di Zero Calcare, ed è un po' il libro che l'ha lanciato, ed è appunto il libro base, penso, anche per comprendere gli altri, perché appunto l'armadillo sarebbe la coscienza di Zero Calcare, che poi sarebbe la nostra coscienza che ci guida nelle varie scelte della vita. Introvabile, nel senso, nelle librerie non lo tengono, su Vinted la gente è pazza, lo vende anche a 2000 euro, ma voi siete malati, ma veramente, veramente. Io non ho parole per dove sia arrivato l'uomo, l'essere umano. L'ho trovato su Amazon, ma volevo che arrivasse per il mio compleanno, e la consegna è stimata fra due mesi. Quindi ho detto, prendo uno dei libri reperibili che mi affascina di più, e poi se mi piace, aspetterò due mesi, però mi prendo l'armadillo su Amazon. E nulla, perché ho scelto questo? Ho scelto questo perché chi ha visto il mio video, chi è Martina, sa che ho fatto un anno in servizio civile, e ho lavorato in carcere, e io pagherei oro per rilavorare in carcere. È una realtà che mi affascina tantissimo, e dopo esserci stata, mi piace ancora di più. È un mondo a sé, non tutti lo capiscono, non tutti lo comprendono, ma a me piace. Sia mi piace come Martina persona, sia come Martina educatrice. Poi Antonio fa il poliziotto penitenziario, e quindi ho deciso appunto di prendere questo, perché appunto parla, ovviamente ambientato nel carcere di Re Bibbia, tra cui alcune ragazze che conosco hanno lavorato a Re Bibbia, e poi appunto parla della situazione delle carceri in Italia. E nulla, tutti ne parlano bene, e quindi ho deciso di prenderlo. E poi appunto, se mi piacerà tanto, perché io non amo i fumetti, magari continuerò appunto a prendere i libri di Zero Calcare. Ho visto la serie TV, me ne sono innamorata, l'ho vista, sono cinque puntate da venti minuti in una, quindi in un paio d'ore l'ho vista, e nulla, questo. Poi, altri libri che mi sono presa sono delle mie due scrittrici preferite, no, no, scrittori, scrittori, scrittori preferiti. I miei scrittori preferiti sono Alice Gazzola, spero che tutti conosciate La Saga dell'allieva, Lucinda Riley, La Saga delle Sette Sorelle, e Joel Dicker, il suo libro più famoso è La Verità sul caso Enrique Bert. E ovviamente io ho letto tutte le loro saghe, e poi ci sono anche dei libri che sono stati scritti al di fuori delle saghe. Quindi per Alessia Gazzola mi sono voluta prendere un tè a Shaverton House, edito per Garzanti, al prezzo di 16,40. Io adesso vi sto dicendo i prezzi qua, che riportano sulla copertina, però se acquistate libri su Amazon sapete che su Amazon ad oggi c'è una percentuale di sconto, mi pare del 5%, perché prima era il 15% e poi ovviamente le gioie ogni tanto ci sono, ma durano poco e quindi l'hanno abbassata al 5%, mi pare. Quindi l'avrò pagata intorno ai 15 euro e qualcosa. E nulla, io l'amo, non ho letto la trama, come ho visto che era uscito questo libro, ho messo nel carrello, ho comprato, quindi non vi saprei nemmeno dire di cosa parla. E appunto penso, sicuramente c'entrerà il tè, sicuramente posso pensare che, cioè posso immaginare che la protagonista si trovi in questa dimora, e mentre, non lo so, magari si gusta un tè e viene a scoprire dei segreti, perché insomma Alessia Gazzola, anche se ha fatto tanti libri, comunque le trame più o meno sono quelle, quindi sarà magari un pochino anche poliziesco, insomma. L'ho preso al volo e sempre suo ho preso La ragazza del collegio, perché la saga dell'allieva è finita, ha iniziato un'altra saga. Ho letto il primo libro che mi è piaciuto tantissimo e quindi ho deciso di prendere anche il secondo, ovviamente. Qui è nulla. Questo qui è edito per Longanesi al prezzo di 18,60 euro. Ecco qua. E nulla, non vedo l'ora di leggerli. E poi appunto di Joel Dicker ho letto ovviamente La verità sul caso di... E scusate se ogni tanto guardo qua, però io guardo, quando parlo a voi guardo nella telecamera, però tanto per vedere che tutto finisce, devo guardare davanti a me per vedere in che condizioni sono. E nulla. Ho letto La verità sul caso di Enrique Bert, e ne ho letto La scomparsa di Stephanie Myler. E mi mancherebbero tre libri, però il libro che è ambientato... non mi ricordo in che anno, che tratta la guerra, a me non piace. E quindi ho deciso di prendere questi due, ovvero famosissimo il libro dei Baltimore. Questi qui sono edito per i delfini bestseller. Comunque sia La collana è la nave di Teseo. I libri di Joel Dicker non costano poco, perché più o meno ci aggiriamo intorno ai 20-22 euro, però ne valgono veramente la pena. E poi alcuni costano un pochino meno, tipo questo qui ha un prezzo di 14,50 euro. Ora, anche di questi io non so dirvi di cosa parlano, perché mi bastava sapere che l'autore fosse lui e l'ho acquistata, quindi vi so dire poco, però se avete bisogno di qualche recensione, sicuramente sul tubo trovate appunto qualche recensione. E nulla, quindi questo. E poi ho preso l'Enigma della Camera 622, sempre per... qua non c'è... sempre per... come si chiama? Abbiamo detto i delfini, e la... diciamo, è sempre la nave di Teseo. Questo qua, 22 euro. Ecco qua. Questo qui, tra l'altro, è l'ultimo libro che ha scritto e quindi è uscito, e quindi è nuovissimo. Ecco qua. E nulla. Sì, questi erano tutti i miei autoregali per il mio 27esimo compleanno. Direi che sono abbastanza, ma rimanete connessi perché adesso sta anche per uscire il video sui regali di compleanno che mi sono stati fatti. Spero di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!